Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position e la Fortunella completa la prima fila. Nel resto della griglia invece... Bottas, Ricciardo, Lewis Hamilton e Norris, Leclerc, Gasly, Sainz e Yuki Tsunoda, Fettel, Stroll, Bernardo Alonso e Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, Russell e Nicolás Latifi. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Stavolta corri sulla pista di casa del team, contiamo su di te, lascia tutti senza parole. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele più Carbonara. Questa è l'ottava puntata su Formula 1 di 2021. Stavolta ci troviamo il gran polemico di Gran Bretagna a Silverstone. Wow! Sai cosa successe a Silverstone? Eh sì, ha vinto Hamilton. E come? Che ha mandato fuori Verstappen alla prima curva. No, alla prima curva. No. Alla vecchia prima curva. Alla vecchia prima curva. Eh. Ma ti sembra giusto che poi guarda Hamilton vincere in ospedale a Stappen e passeggio con la bandiera. Mi hanno dato solo dieci secondi di penalità e ha recuperato. Allora, per il prossimo video come sempre lasciate almeno dieci like e iscrivetevi al mio canale. La griglia l'avete già vista, quindi possiamo iniziare. Come sempre iscrivetevi al canale e possiamo cominciare. Bea! Zitto, Alex. Attenzione. Bello. Daniel Ricciardo adesso ne approfitta per prendersi di forza la terza posizione Sulla Mercedes di Valtteri Bottas. Ma Ricciardo non ha abbastanza velocità. Oh, contatto, contatto, c'è contatto, c'è contatto, Ricciardo fuori. Ricciardo. Ricciardo si gira. La gara... La gara riparte. Bandiera verde. Diciamo che il rettilineo guadagno molto, vero? Sì. È andato un po' lungo lì, eh? Eh. Vai così, vai così, vai così. No! A momento per Stappen è davanti a noi di 12 punti con il giro veloce, con il punto del giro veloce. Se qualcuno glielo togliesse... Se qualcuno glielo togliesse... Ehm... Davanzarebbe davanti a 11 punti. Dobbiamo incrociare bene le dita. Vai così. Vai. In uscita sono andato... Benissimo. Sì, sono uscito bene. Attenzione, ce l'ho dietro, Bottas, anche Hamilton. Attenzione... Attenzione ai possibili rischi. Attenzione... Adesso con la potenza della Rebun in rettilineo. Adesso andiamo a concludere il secondo giro. Ho penso di fare il giro veloce, però... Diciamo che è un buon ritmo, ce l'ho. Sì. Attenzione... Bottas ci prova. Attenzione, va lungo, va lungo, va lungo, va lungo. No! Vai, 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 vai. Via, 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 via. Via, via, via. Ma è così, vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. Dai, dai, dai. Sono uscito bene. Sono uscito bene. Sono uscito bene. Sono uscito benissimo. Benissimo, sono uscito. Oh, ci prova! Ci prova, Bottas! Ma niente da fare per il pilota finlandese. Attenzione, ne approfitta anche Norris, così come... Giusebito! Contatto! Hamilton è fuori! Hamilton è fuori, gara! Oh, no! Sì, sì! No, no! Non è fuori gara. Incredibile! Adesso appiega Sli, passa Dando Norris. È incredibile! Che è successo! Oh! C'è bandiera gialla! Bandiera gialla! Che sta succedendo? Ok, va bene! Cioè, i classi di dietro gli altri si sono fermati, eh! Sono rallentando! Eh sì, ma secondo me sono proprio fermati, perché... Stai attento! Adesso le Clerc Zimoda lottano per la quarta posizione! Incredibile! Ho fatto la stessa cosa con Hamilton e Verstappen per vendicarmi! Questa è per Mazza! Questa è per Verstappen, vero? Non fa bene! Benissimo! Adesso c'è il DRS, ma... L'Alfa Tauri di Casino non può fare nulla con... La trazione in... Cioè... Con la velocità in rettilineo! Non può fare nulla! Deve solo sperare qua! Non ha niente da fare! È molto veloce in rettilineo! È molto veloce sul dritto la Red Bull di Gabriele Fiucarbonara! Attenzione! 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 E' peggio da lui! Ma... Non l'ho ancora fatto fuori! Va bene! Siamo quasi al giro finale del Gran Premio! Oh! Scone ha passato le Clerc! Eoi! Ha incontrato un problema con la scatola delle unità di controllo elettronico! Ma ha danni aggiuntivi a più di abbi con polegi della fauna! Incredibile! E' incredibile! Gasly Box! Quindi Stroll, Leclerc e Tsunoda lottano per il podio del Gran Premio di Gran Bretagna! la Red Bull... Ma Bottas pure fuori andato qua! Beh adesso è nelle retrovie! Adesso Bottas è nelle retrovie! Neanche zona continua! Ma poi vediamo alla fine della gara! Secondi chi andrà a podio? Leclerc o Stroll? No! Stroll! Forse hai ragione! Comunque Tsunoda vedo che si fa ingombrante agli specchietti di Charles Leclerc! Sì! Eh! Sono tutti vicini per il podio tra Stroll, Leclerc e Tsunoda! Comunque c'è anche l'Alfa Tauri di Sebastian Vettel! Che sta facendo da spettatore incredibile! E' arrivato! E' arrivato Stroll! Ma niente da fare per lui! C'è una velocità impressionante! Nel greto mazza sta per vincere! E' il Gran Premio di Gran Bretagna! Doveva vincerlo! Ma purtroppo nella vita reale è stato mandato fuori! Secondo! Gabriele Pecabonaro ancora una volta! Doppietta! 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 Doppietta Reble! E la Reble aumenta i punti in classifica costruttori! Sì! Buona come cosa! Ettima! Comunque ho visto che hanno fatto il punto dizionale a Verstappen! Hanno tolto? Sì! Ah sì? Sì! Non so chi l'ha tolto ma... Oggi l'ha spuntata la Red Bull con una prestazione di altissima... Ancora una volta Max Verstappen vince! Devo batterlo! Devo batterlo! Devo battere proprio il mio compagno di squadra! Sarà tosta! Un pilota con molta esperienza! E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica pilota! Max Verstappen... Eh... Sì! Sì! Undici punti davanti! Undici punti davanti a Verstappen! Incredibile! Wow! 150 punti! Davanti alla Mercedes! Ah! Il bello è che la Ferrari è dietro alla Mercedes di 10! Ah! E vediamo quanti sono arrivati i Bottas! E no! Non è arrivato a zona punti! Uh! Ultimi sono arrivati! Ah! Bottas ha fatto il giro veloce! Eh! Incredibile! Comunque... È stata una bella gara! Grandiosa! Devo dirlo! Mazyspin il dodicesimo! Wow! Quindi spero che questo video vi sia piaciuto! Lasciate al minuto 10! Like il prossimo video per il canale! Ciao! Ciao!